Ciao da IMAX, vi presento la Apex, la nostra nuova tattoo pen con stroke da 4 mm. Nella confezione, oltre alla Apex tattoo pen, abbiamo anche il RCA di collegamento. Come cartucce, monta i sistemi di cartucce più diffusi sul mercato. Andiamo a montare il nostro Supreme. Andiamo a collegare. Appena accesa, notiamo molta stabilità, grazie a delle vibrazioni veramente impercettibili, molta potenza e molta maneggevolezza. La regolazione della fuoriuscita del lago, che va da un minimo di 0 a un massimo di 4,5 mm, avviene grazie a un meccanismo a scatto. Ciò ci permette di avere molta precisione. Appunto, lo stroke di questa macchinetta è di 4 mm. Ciò ci permette di eseguire con perfezione sia linee, sia sfumature, che riempimenti. Il range di utilizzo è dai 5 ai 10 volt, quello consigliato è 8. Essendo la macchinetta veramente molto leggera, appunto, solo 110 grammi, noi consigliamo l'utilizzo anche con le nostre e-max batteri, disponibili in due versioni, angle e straight. Le batterie, appunto, pesano solamente 70 grammi, che sommate al peso della macchinetta andiamo ad un totale di 180 grammi. Ciò ci permette comunque di mantenere un'ottima stabilità e maneggevolezza. Le batterie si presentano con tre tasti, uno appunto per accendere, uno per aumentare il voltaggio e uno per abbassarlo. Poi abbiamo un piccolo display con il tempo di utilizzo, il voltaggio e la percentuale di carica della batteria. Grazie per l'attenzione e ad un prossimo video.